E' il giorno del corso di formazione politica organizzato dal ministro Carfagna ed è anche il giorno della conta, della prima conta nel PDL salernitano alla vigilia della chiusura del tesseramento e dunque in piena fase precongressuale. Il ministro Carfagna, che nell'ultimo periodo ha intensificato la sua presenza in provincia partecipando ad iniziative ad Eboli e a Cava dei Tirreni, torna nel capoluogo e porta con sé di fatto mezzo governo. Oggi alle 16 all'Hotel Mediterranea sarà la volta del ministro Maroni che ha confermato la sua presenza e di quello ai rapporti con le regioni Fitto. Ci saranno anche il sottosegretario alla difesa Crosetto e il segretario generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi. Domani mattina arriveranno il ministro per l'ambiente Prestigiacomo, il governatore Caldoro, ma soprattutto il segretario del PDL Angelino Alfano. Al Mediterranea non ci saranno oggi i dirigenti del PDL salernitano, non ci sarà soprattutto Edmondo Cirielli, ufficialmente tutti a Napoli per incontrare proprio Angelino Alfano che ha convocato la classe dirigente del PDL in Campania. Sono oltre 600 gli iscritti al corso di formazione politica, un dato che viene considerato dagli organizzatori già un successo e che servirà a dare, nelle intenzioni dei Carfagnani, una prova di forza alla vigilia del congresso. Domattina, come dicevamo, ci saranno tra gli altri Alfano ed il governatore Caldoro. Alfano potrebbe andare prima al coordinamento provinciale del PDL, in via Portelina. Per quanto riguarda Caldoro, sarà interessante registrare le risposte del governatore alla nuova sfida lanciata dal sindaco di Salerno, De Luca, che ieri ha individuato 5 punti, metropolitana, CSTP, teatroverdi, promozione turistica e sanità, su cui la regione Campania è chiamata a rispondere entro la metà di novembre. Intanto, a De Luca, replica Cirielli. Ma guardi, io veramente il sindaco di Salerno mi fa sorridere. Tutte le cose che andrebbero bene sono merito suo. Quando c'è qualcosa che non va bene è sempre colpa di qualcun altro. Il suo comune è pieno di debiti, non ha indebitato i figli dei salernitani, ha indebitato persino i nipoti, quelli che non sono ancora nati, ed è colpa della regione. Non completa il secondo lotto della metropolitana, perdendo quasi 30 milioni di euro di finanziamenti e si lamenta che la regione non finanzia il terzo lotto. Ecco, voglio dire un'incongruenza. Lamenta che il CSTP sarebbe in difficoltà per colpa della regione, è vero, ma è colpa della regione di Bassolino del PD che lui ha votato, perché la diseguaglianza nella distribuzione delle risorse è un dato storico che lui ha sopportato e supportato per tanti anni. Il CSTP è nei guai fino al collo per i debiti, perché il comune non l'ha pagato, per transazioni di comodo che sono state fatte a favore del comune di Salerno, perché Salerno pagava meno degli altri comuni della provincia di Salerno e lui scarica la colpa sulla regione. Io credo che lui invece deve dare conto ai cittadini su come mai sottrae soldi magari per le politiche sociali, vedi gli asili nido e poi trova quasi 5 milioni di euro per fare queste luci d'artista. Per carità, bellissime luci, ottime, sono tante le cose che si potrebbero fare con 5 milioni di euro. La provincia di Salerno che rappresenta 158 comuni, 158, 1 milione e 200 mila persone rispetto alle 100 mila di Salerno, non le spende 5 milioni di euro per il turismo e la cultura.